Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi in un canaletto vicino al Ticino per provare a prendere qualche persico e l'esca che ho deciso di utilizzare oggi è appunto questo piccolo shad che mi è stato su una testina piombata. Tessina piombata a 2 grammi e uno sciadino della Numura. Vediamo un po' come va. Eccolo qua. Piccolo persico preso su una gommina. Eccolo. E va via. Eccolo qua. Altro persico. Sempre su testina piombata. Eccolo. Eccolo qua l'esca. Un piccolo shad su una testina piombata da 2 grammi. Vediamo se riesce qualcosa. Eccolo. Eccolo un altro. Bellino. Forse è un po' più piccolo rispetto agli altri. E va. Eccolo. Eccolo. Eccolo Più piccolino E va via Vediamo se esce qualche persego anche da qua Eccolo Piccolino Molto piccolo questo E va via Eccolo Spero si sia visto nel video proprio l'attacco qua sotto Eccolo Grazie 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 Eccolo Eccolo Un po' più piccolino Solita esca Eccolo E va Eccolo 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 Piccolo persico Sempre solita esca Eccolo 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 Grazie a tutti. 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 Sotto il ponticello, visto che mi seguiva anche un altro, quindi ci riprovo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccolo, piccolino. Grazie a tutti. Ecco l'uovo. Slamato. Eccolo. Porcero. Un pelo più grandicello. Eccolo. E... Grazie a tutti. Grazie a tutti.